Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole, diceva Flaiano, le nuvole, luogo dei sognatori, il cinema, paradiso dei sognatori. E qui siamo al Media Museum di Pescara. E come leggete qui, lavoro in corso, perché parleremo di un progetto di riqualificazione importante per questo luogo, che diventerà Moc Ennio Flaiano, museo dell'Officina del Cinema, intitolato appunto Ennio Flaiano. Un luogo identitario per la città, che sarà completamente valorizzato e riqualificato, grazie a un progetto molto ambizioso, curato da Francesca Villanti, che andiamo a conoscere. È una sfida e in realtà è un po' come succede sempre, l'idea di renderlo attuale, l'idea di renderlo fruibile, soprattutto per i giovani. Ormai sono passati tanti anni da quando è stato costituito, per cui è giusto che il museo vada avanti così come i tempi. La struttura è una struttura bellissima, così come la piazza che lo accoglie, nel senso che il museo ha delle potenzialità incredibili per la città di Pescara, forse dovute proprio alla piazza, nel senso che questo spazio pedonale che ci accoglie prima di arrivare al museo consente proprio di renderlo un luogo della città. E un museo del cinema a Pescara non può che essere dedicato ovviamente a Ennio Flaiano, che negli anni studiando per questo progetto ho imparato a capire quanto sia importante per Pescara, per i pescaresi che si identificano con Flaiano, ma quanto soprattutto sia importante per gli attori. Non mi nascondo che quando due anni fa Ellen Mirren venne a ritirare il premio Flaiano, con la voce tremante dall'emozione, ha detto io ho superato le mille difficoltà del Covid per poter essere qui a ritirare questo premio, perché io devo tutta la mia carriera, tutto quello che sono oggi a Ennio Flaiano. E l'emozione di tutti noi, devo dire che è stata veramente incredibile. E questo però significa che forse un po' come capita, forse è più facile capire l'importanza delle persone da lontano che non da vicino. E quindi mi sembra doveroso dedicare un museo del cinema a Pescara a Ennio Flaiano. E soprattutto al Media Museum ci sono delle opere, dei testi di Flaiano che vanno assolutamente scoperti e a cui va data importanza. Vi faccio soltanto un esempio, forse il più facile, il più comprensibile. C'è custodita qua al museo una lettera dove Flaiano spiega l'origine della parola vitelloni e paparazzi, che ci ha reso famosi in tutto il mondo. E poi ovviamente ci sono moltissime sceneggiature da lui redatte. E quindi non è possibile pensare a un museo del genere con questa ricchezza e non poterlo offrire non solo ai pescaresi ma a tutto il mondo. Anche perché l'opportunità che noi abbiamo anche rispetto agli altri musei è che facendolo oggi possiamo creare un museo all'avanguardia. E ormai le tecnologie di oggi ci consentono proprio questo. Possiamo partire dal passato, per cui dalle macchine meravigliose che sono contenute in questo museo. E possiamo utilizzare la tecnologia proprio per spiegare che cosa hanno fatto queste macchine. Mettendo per esempio un QR code possiamo vedere che film o che scena è stata girata con quella macchina, che tipo di lavoro. E l'idea delle officine nasce proprio da l'idea di raccontare tutto il lavoro che c'è dietro a un film. Quando noi ne vediamo, vediamo il successo, normalmente vengono premiati l'attore principale, il regista, eccetera. Però poi quando vediamo scorrere i titoli di coda, vediamo dei nomi, tantissimi nomi che hanno contribuito al successo del prodotto e andiamo a scoprire proprio quelli. Andiamo a scoprire che cosa significa girare un film. E questo lo facciamo attraverso le macchine antiche che ci permettono quindi di fare un percorso, un percorso museale, però poi per arrivare a come si fa oggi. E quindi raccontare, soprattutto ai giovani, ma in realtà a tutti perché sono comunque degli elementi che suscitano grande curiosità, raccontare che cosa significa oggi girare un film, quali sono i mestieri del cinema, quali opportunità ci sono anche per i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro, quali sono le varie opportunità, ma dalla scrittura alla regia, alla parte organizzativa, alla parte tecnica, alla parte delle luci. Nel senso che sono infiniti lavori che permettono a un film di arrivare a compimento. E questo vogliamo farlo attraverso le officine, ed è per quello che l'abbiamo chiamato Museo Officine del Cinema Ennio Flaiano. Ennio Flaiano, il cinema è ovviamente immagine, ma anche scrittura. Francesca prima ci spiegava che non si può non partire dall'importanza della scrittura, essendo tra l'altro un museo dedicato, dal mio punto di vista, al più grande sceneggiatore del cinema italiano e non solo. Un po' sempre ai premi Flaiano, che poi hanno reso anche celebre Flaiano in tutto il mondo. Durante la premiazione dell'anno scorso, un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è stato, per esempio, Vinicio Marchioni, che ha... sai quando tu dici, come al solito, no? Vieni premiato, per cui che cosa devi dire? C'è questo premio, è il premio più importante, eccetera, eccetera. Però capisci che stanno dicendo la verità, perché, per esempio, recitano dei testi di Flaiano a memoria, ma non la frase famosa, eccetera, proprio dei brani anche lunghi. Cioè, capisci che veramente i testi di Flaiano li hanno formati. E portare i ragazzi a leggerli ancora, secondo me, è un compito molto importante, perché capire che il successo di un film, è ovvio che poi sono tante maestranze insieme che lo rendono tale, però si parte dalla scrittura. Per cui l'idea, il come è scritto, la battuta, è lo scheletro del film. E quindi è importante che non venga trascurato e che non venga dato per scontato. Ed è una cosa che si impara, che si studia, non è scienza innata, nel senso che, come al solito, ci può essere una predisposizione, però va capito, va studiato, va affrontato e fa parte della nostra cultura. E allora, con Francesca, adesso iniziamo un piccolo giro dei locali di questo magnifico Media Museo, che presto diventerà MOC, così cercheremo di capire che cosa accadrà in questa scatola magica. E qui ci troviamo in uno degli angoli più suggestivi di quello che sarà il MOC. Siamo al fianco di una macchina da presa a carbonale, è stato uno dei reperti che, tra l'altro, ha più affascinato Francesca quando è venuta per la prima volta qui, no? Ma perché la cosa eccezionale di queste macchine raccolte qui è che proprio raccontano la storia del cinema. Se voi guardate, noi apriamo questa macchina degli anni 40 che funzionava ancora a carbone. Ed è proprio questa la cosa bellissima che noi possiamo raccontare. Ci sono degli strumenti all'interno di questo museo, e come vedrete, sono tantissimi, che consentono proprio questo, cioè di raccontare l'evoluzione del cinema, cioè da dove siamo partiti a che cosa siamo oggi. E per imparare è fondamentale, cioè come sempre si parte dalla storia, la storia deve diventare il nostro punto di partenza per arrivare a quello che c'è oggi, per capirlo. Nel senso, non diamo per scontato il digitale. Partiamo dall'inizio e poi ci arriviamo. E questo è il modo migliore anche per capirlo e per saper utilizzare gli strumenti nuovi. Per quello, secondo me, è così importante. E vedrete poi, guardandovi intorno, che il museo ha una collezione di macchine straordinaria. Ne sceglieremo a mano a mano. Alcune le faremo restaurare. Questo ovviamente con gli anni, con grande lavoro e grande impegno, perché l'idea è comunque di preservare e conservare questo straordinario patrimonio. E a proposito di reperti preziosi e straordinari, queste sono le macchine, ma poi c'è anche l'inventiva, la genialità e la creatività di Ennio Flaiano. E' più famoso d'annunzio con i suoi neologismi, ma vi assicuro che anche Ennio Flaiano era un grande in quanto a neologismi. E tra poco capiremo il perché. Allora, si parlava di neologismi d'annunziani, ma anche i neologismi di Flaiano, come i vitelloni o i paparazzi. E tra poco vedremo un documento straordinario da questo punto di vista. Intanto con Francesca siamo affascinati dalle foto dei tanti grandi del cinema che hanno ricevuto un premio qui a Flaiano o che comunque hanno avuto a che fare con il grande Ennio. Allora, in questa lettera datata 2 novembre 1971, la spiegazione di Ennio Flaiano, per qualcosa che riguarda uno dei termini più noti, quello dei vitelloni. Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi l'immagine di uno straordinario Alberto Sordi con il suo famoso gesto, Francesca. Sì, in questa teca vedete una raccolta di lettere che Flaiano scrive a Giuseppe Rosato. Più o meno siamo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta. Flaiano riallaccia i rapporti con la sua Pescara e quindi scrive ricordandosi proprio del suo legame così forte con la città. E proprio in quell'occasione spiega da dove nasce questa parola che poi l'ha reso famoso in tutto il mondo. E in tutto questo, in quello che sarà il MOC, tutto questo sarà ancora di più evidenziato? Sì, perché in realtà, per quanto poi Flaiano non vivrà a Pescara, però comunque lui racconta di quanto sia stato importante per lui il suo legame con la città e di quanto sia forte, le sue origini che effettivamente poi emergono dai suoi testi, dai suoi racconti, in tutto quello che scrive, in tutto quello che vive. Abbiamo parlato delle macchine del cinema, tutto ciò che c'è dietro. Abbiamo parlato dell'inventiva e della genialità nella scrittura. C'è poi un altro aspetto del cinema, quello dei manifesti. Qui siamo circondati e anche questi tanti manifesti che sono presenti qui a quello che sarà il MOC avranno una loro collocazione precisa nel progetto di riqualificazione. Francesca, tra l'altro, ha in mano un reperto magico, no? La cosa straordinaria, cioè tra le straordinarie reperti preziosi contenuti in questo museo ci sono non soltanto i manifesti di promozione dei film, ma ci stanno anche i bozzetti originali di uno dei più grandi artisti che si è dedicato a questo, che è Manfredo Acerbo. E di nuovo, sempre per raccontare che cosa si può fare, cioè quali sono i mestieri del cinema. In questo caso sei un'artista, sei un'artista vero e proprio e dedichi il tuo lavoro e la tua arte al mondo del cinema. E realizzi, come in questo caso, dei bozzetti meravigliosi, acquarellato, eccetera, e qui ce ne sono moltissimi e anche a questi vogliamo dare spazio e importanza. Vi abbiamo fatto vedere quello che c'è. Adesso cerchiamo di capire come sarà collocato tutto quello che c'è. Francesca. Allora, abbiamo realizzato un progetto grazie a uno studio di architetti, la BC Progetti, che lavorano e hanno realizzato dei musei bellissimi, delle mostre, quindi specializzati proprio in museologia, per cercare di creare un'accoglienza per il pubblico e di raccontare al meglio i tesori contenuti nel MOC. Partiamo dal primo spazio dedicato ovviamente a Flaiano, per cui l'idea è di dedicare tutta una parte, una prima parte del museo a Ennio Flaiano, a raccontare chi era, che cosa ha fatto, a far vedere i suoi testi, ma anche, grazie alla tecnologia che ci supporta sempre, a far interagire i ragazzi e creare anche dei giochi, per farli giocare con le parole. Perché, come diceva Flaiano, che era un uomo molto, anche pigro, se vogliamo, si deve imparare, anche e soprattutto rispetto alle nuove generazioni, anche giocando. E quindi quella che all'interno dei musei viene chiamata la gamification diventa uno strumento fondamentale per avvicinare i ragazzi e non allontanarli, per cui non sono dei tomi enormi di libri da leggere, eccetera, ma è capire come si gioca con le parole, le battute, eccetera. Per cui è un racconto di Flaiano colto con i massimi esperti, però attualizzato, così come faremo poi con le macchine, per cui ci sarà tutta una parte iniziale dedicata ai macchinari che abbiamo visto e poi a salire nei primi due piani le stanze dedicate al Museo delle Officine e ogni stanza sarà dedicata a una professione del cinema, dove verrà esposta una macchina antica e l'equivalente della strumentazione moderna per arrivare a, non agli stessi, diciamo, a dei risultati molto migliori degli anni di oggi. Carla Tiboni, è giunto il momento di dare nuova vita a questo luogo che noi abbiamo definito magico, della città di Pescara e l'occasione importante è data appunto da questo importante finanziamento che giunge dal Ministero degli Interni. Sì, ci siamo. Finalmente il sogno che, diciamolo, il sogno di Edoardo Tiboni che si realizza, quello di creare un museo del cinema, un museo del cinema però moderno e che raccontasse nella sua modernità e tenesse conto anche della storia del cinema ma soprattutto che celebrasse uno dei nostri illustri cittadini che è Ennio Flaiano che credo sia uno dei più grandi sceneggiatori italiani ma soprattutto uno dei più grandi intellettuali del Novecento. Quindi è una notizia importante ma credo che sia una notizia importante per la comunità pescarese, per la comunità culturale pescarese. E per in qualche modo far rivivere questo materiale che avete qui che è veramente un materiale straordinario raccolto negli anni grazie all'impegno di Papa Edoardo ma anche grazie a tante, tantissime donazioni. Sì, come hai detto tu, il Media Museum, diciamo, cominciamo anche a usare il nuovo acronimo, il MOC è un luogo magico, cioè una dimensione diversa appena si entra, si cambia proprio mentalmente si entra in un'altra dimensione che è quella del cinema, quindi del sogno, della fantasia, della creatività. Sono stati tantissimi gli anni in cui il materiale è stato raccolto, è stato veramente un lavoro certosino fatto da Edoardo Tiboni ma anche da altri collaboratori, da case di distribuzione, da produttori e anche da molti donatori. Quindi diciamo che c'è stata una consapevolezza dell'importanza del Museo del Cinema collegato ad Ennio Flaiano perché ricordiamo anche che questo luogo è la sede dei Premi Internazionali Flaiano.